Amici, bentrovati! Oggi è domenica, non so cosa stiate facendo voi, non so cosa abbiate fatto voi, ma io sono venuto a godermi una serata magica, ma davvero magica. Sono a Torralba, dietro di me il nuraghe Santuantine, valorizzato, arricchito da questa illuminazione che lo rende così magico, e ulteriormente arricchito dalla musica dei Bertas, che ci regaleranno un repertorio non inedito, però che fanno solo nelle occasioni particolari come questa, il Santuantine Festival. C'è una luce così bella, ma Maduro sa che in cielo c'è una stella, sopra sale e paura è la sua vera, soprattutto a questa disispera, è una luce nera ma vedi come splenderà. Che meraviglia ragazzi, ma vi rendete quanto lo sappiamo di Sardegna? Questo festival poi è magico non solo perché è fatto qua, in questa location, ma anche perché è un viaggio, sì nella musica, ma anche nella cultura sarda. C'è infatti una mostra allestita proprio qua davanti al nuraghe, che rimarrà aperta fino a dicembre, che è proprio propedentica alla visita poi al nuraghe, perché là nella mostra si impara che cos'era il periodo nuragico, i mestieri, la Sardegna quanto era importante in quel periodo e poi quindi quando si va a visitare il nuraghe, che è visitabile anche di notte, ed è uno spettacolo, si è pronti ad apprezzare meglio questa location. Continuiamo la serata in musica. Grazie. 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 Grazie.